3 milioni di euro stanziati dalla regione Abruzzo per il rifacimento di strade provinciali particolarmente danneggiate e difficilmente transitabili. La provincia di Pescara riceve 800 mila euro già destinati ad interventi mirati. Spiega Antonio Di Marco, sono stati proprio i sindaci dei vari comuni a fare un rendiconto delle situazioni più pericolose. Partendo dall'area Vestina, quindi Farindola, Penne, la stessa Loreto, non solo Colle Corvino ma anche Picciano, hanno una necessità storica su cui noi abbiamo potuto fare degli interventi in questa occasione. Altro intervento nell'area sud, perché la provincia si divide in area nord e area sud, l'area sud è quella che riguarda Pietranico, riguarda parte del territorio di Torre Passeri, Pesco Sanzonesco, riguarda anche e soprattutto Castiglione a Casauria dove ci sono degli interventi cospicui previsti, ma ci sono altri interventi previsti anche per esempio sull'anno, ma anche nelle prossimità di altri comuni che evidentemente hanno da sempre segnalato queste esigenze e oggi è stato possibile raccoglierne la sfida. Una nuova tranche di fondi è prevista già tra pochi giorni. Intanto si pensa al bando di assegnazione dei lavori che avverrà con regolare gara d'appalto Pescara e la prima delle quattro province ad aver già terminato l'iter di analisi degli interventi più urgenti. Io sono tra i presidenti province che ha sollecitato da subito il presidente D'Alfonso a rintracciare le risorse nel bilancio regionale. È evidente che quando lo fa per la provincia di Pescara lo fa anche per le altre province, quindi la somma rinvenuta era di più di 3 milioni di euro e è stata suddivisa per le quattro province. Questi 800 mila euro quindi sono esattamente tutti arrivati dopo l'insediamento della mia presidenza che è del 13 di ottobre scorso e la comunicazione è stata del 6 di novembre da parte del presidente della giunta regionale che appunto assegnava queste risorse. Da lì ci ha chiesto velocità, determinazione nelle scelte degli interventi e soprattutto la pianificazione amministrativa a supporto di un iter che dovesse essere il più possibile chiuso entro Natale ed è quello che noi abbiamo potuto fare grazie alla struttura dell'ente.